Allora, iniziamo questa chiacchierata su questo tema Smart Buildings in cui cerco di portarvi il mio punto di vista che è emerso dal lavoro che abbiamo fatto al Politecnico e in collaborazione con varie altre aziende o enti che ci hanno accompagnato negli ultimi anni in questo percorso, l'esperienza che abbiamo fatto su queste tematiche. Quindi vi portiamo un po' il nostro punto di vista che abbiamo elaborato a valle di alcune esperienze specifiche. Cercherò di essere, il mio scopo è quello di non entrare oggi troppo nel tecnico, per questo al limite si può parlare in separata sede, ma di provare a costruire insieme una vista d'insieme di quello che sta sotto all'esistenza di un edificio intelligente. Quando parliamo di un edificio intelligente, quali sono gli ingredienti che servono? La conclusione, l'anticipo, è che la maggior parte degli ingredienti in realtà sono nascosti, sono quelli che non si vedono, sono quelli di cui ti accorgi al secondo giro. Poiché è venerdì sera, venerdì pomeriggio, le quattro avanzate, ho pensato alla versione molto breve del seminario, facciamo subito le conclusioni e poi andiamo, poi c'è vicino a un bar, possiamo andare a prendere l'aperitivo insieme e quindi la scaletta è molto breve. Mi hanno dato 45 minuti, quindi due per il seminario e gli altri per l'aperitivo. Quindi le conclusioni del seminario sono, beh innanzitutto queste conclusioni si applicano in generale a Smart Buildings, compresi due casi particolari che sono quelli delle Smart Homes e delle Smart Actories, che hanno chiaramente caratteristiche diverse, ma spesso dal punto di vista tecnologico-infrastrutturale e architetturale del sistema informativo si somigliano molto. Poi chiaramente il campo invece è molto differenziato, il tipo di misure che si prendono sono molto differenziate, il tipo di interazione che ha l'utente con l'ambiente è molto differenziato, ma tutto sommato la visione che poi proverò a proporvi si applica a tutte le casistiche. Qui per non complicare il titolo abbiamo mantenuto Smart Buildings, ma ci tenevo ad allargare un attimino il punto di vista. Le conclusioni sono, il punto di partenza e il punto d'arrivo è che la tecnologia è disponibile, cioè oggi basta aprire un catalogo o fare una ricerca su internet e si trovano dispositivi, device di attuazione, di sensoristica, di misurazione di ogni sorta, con protocolli wireless, con protocolli con fili, protocolli industriali, sistemi pensati per l'uso domestico, quindi si va dal bus di campo con il dispositivo intelligente, al sistema domotico intero, all'appliance intelligente e così via. C'è veramente un'offerta di dispositivi che comincia a essere veramente ricca. Qui ho semplicemente raccolto un po' di fotografie in modo più o meno random di oggetti che ho già fisicamente toccato, quindi non sono fotografie prese a caso, ma sono oggetti reali che esistono, non brochure immaginarie, di dispositivi che vanno da appunto dispositivi domotici a filati tradizionali, a sistemi wireless per la domotica, a sistemi di misurazione ambientale che stanno negli scantinati di qualche grande edificio. Quindi il problema dei dispositivi tendenzialmente non c'è, c'è un mercato abbastanza differenziato, possiamo ragionare sui costi, però la disponibilità non è un problema. L'altro canto ci sono le applicazioni. Le applicazioni in questi anni hanno cominciato, direi, a delinearsi alcuni campi applicativi. Quindi se qualche tempo fa una domanda poteva essere, sì di uno smart building, ma per farci che cosa? Per cui c'era la percezione che la tecnologia aveva delle potenzialità, ma non era ancora ben strutturato il dominio applicativo. Adesso direi che ci sono alcune applicazioni che stanno abbastanza allargandosi, coprendo buona parte del campo, che sono quelle legate all'energia, da vari punti di vista, quello del monitoraggio, quello della gestione stessa, quindi le controllo. Non vado a citare Smart Grid, perché in questo caso si allargherebbe di molto il punto di vista. Rimaniamo sempre nel confine del building. Poi tutte le applicazioni che hanno a che vedere con la sorveglianza e la sicurezza, quindi anche tutti i progressi del campo video, di cui qua invece non parliamo oggi. e tutta la remotizzazione del controllo, dell'osservazione, eccetera. Quindi sono categorie di applicazioni che poi ciascuno di noi può avere in mente, anche qui per concettualizzare un po' l'idea di applicazione, ho provato a raccogliere qualche videata potenziale possibile di front-end, perché poi alla fine l'applicazione o, diciamo così, va ad alimentare basi dati nascoste, ma alla fine da qualche parte arriverà in un'interfaccia utente, che permette ai gestori, ai responsabili, ai proprietari dell'edificio, del building, dell'azienda, di controllare o eseguire azioni, eseguire azioni in un tempo istantaneo, quindi controllo diretto, oppure eseguire azioni programmate di varia natura. Questa è un po' la panoramica. Per cui noi abbiamo, da un lato, le tecnologie, i dispositivi cominciano ad essere disponibili in gran quantità, le applicazioni, i campi applicativi sono abbastanza definiti, quindi abbiamo risolto il problema, per quello che il seminario è breve. o no? Chiaramente dietro l'o no sfuma la possibilità di andare al bar e dovremo analizzare questo problema, proviamo a vederlo un pochino più da vicino e vedere quale parte è risolta. Queste due box continuo a sostenere che sono, diciamo così, già molto avanzati in termini di risoluzione, però mancano dei pezzi in mezzo, no? Questo è un po' il punto di vista che volevo portare. Potremmo anche dire il problema è risolto su piccola scala, su casi isolati, ma se uno prova ad affrontarlo nel senso generale, si accorge di livelli di complessità superiori. Quindi cancelliamo l'happy hour e vi propongo un sommario, questa volta quello vero, degli argomenti di cui proviamo a chiacchierare. Partendo ovviamente da cercare di convincervi o condividere con voi qual è il livello di complessità aggiuntivo che fa sì che questo problema non lo possiamo purtroppo definire risolto. Ecco, in questa parte qua, soprattutto in questa parte qua, ma anche poi in quelle successive, eventuali interventi dei vostri punti di vista sono sicuramente graditi, no? Perché, come vi dicevo, io qua cerco di portare il mio punto di vista, non è detto che sia il più corretto, non è detto che sia l'unico, e quindi, diciamo così, sfruttiamo sicuramente in fondo alla chiacchierata, ma anche durante, diciamo così, se sfruttiamo il fatto che siamo vicini, non siamo in molti, per poter anche interagire. Lo metto come premessa. E quindi, dopo aver un dato problema, provo a raccontarvi quella che è un'architettura di sistema su cui abbiamo, stiamo lavorando, sia in termini, diciamo così, di elaborazione concettuale, siamo arrivati a convincerci che serve una cosa di questo genere, sia in termini poi di prodotti specifici, ma non è il focus qui, vi racconterò qualche cosa di specifico sulle varie attività che abbiamo svolto al Politecnico, ma non è questo il focus del seminario, non voglio entrare qui a raccontarvi o vendervi i nostri giocattoli. Quindi, mettiamo i punti di partenza, quindi sui due livelli che abbiamo citato prima, c'è il livello del dispositivo e il livello dell'applicazione. L'applicazione che in qualche modo si interfaccia con qualche dispositivo. Lo so che è una semplificazione, però concedetemelo. Dispositivi, io qui ho provato a riassumere alcune tipologie, alcune classi, di tali dispositivi e a seconda, io ho dato qualche breve occhiata dall'elenco dei partecipanti a quello che fanno le vostre aziende, chiaramente ciascuno ha un caso di studio in mente diverso, ma alla fine se si va a vedere l'elettronica del dispositivo, le funzionalità che svolge le casistiche non sono forse poi così tanto. Parliamo di sensori che possono prendere misure ambientali, misure legate all'utente, molto è legato all'energia e poi c'è tutta la parte di attuazione, quindi far sì che qualche cosa, approva la valvola, chiude la valvola, aprirla, attiva un processo, do un comando a una macchina più intelligente che poi partirà e svolgerà le sue attività programmate e così via. E tutto questo tra l'altro poi non è indifferente rispetto alla tipologia di interconnessione, quindi poi questi dispositivi, come parlano tra di loro, come parlano con l'applicazione, eccetera. Ma questo è solo per avere, per svilupparci in mente una carrellata di dispositivi. Così come le applicazioni, alla fine di nuovo dipendono molto dal caso di studio, ma tendono ad essere una ricombinazione di varie sotto funzionalità, che qui ho cercato di riassumere perlomeno quelle che mi sembrano emergere di più, quindi pannelli di controllo, che possiamo chiamare cruscotti, memorizzazione e analisi di dati storici, diciamo l'allarmistica in generale, l'accorgersi il più presto possibile che c'è qualcosa che sta andando al di fuori della tendenza del trend atteso, il controllo, quindi attraverso un'interfaccia controllare qualcosa che sta in un posto diverso, questa è una funzionalità che vogliamo dare all'applicazione, chiaramente l'applicazione da sola non le sa fare, ma dovrà parlare col campo per poterle eseguire, analisi di trend, elaborazioni appunto su dati storici o elaborazioni su dati in tempo reale, ci sono sempre questa dualità, se lavoro sul dato fresco alcune cose le posso fare, altre no, se lavoro sul dato storico viceversa, potrò fare più facilmente alcuni tipi di elaborazione, ma altri invece rischiano di essere troppo onerosi. per poi arrivare chiaramente a un tema che qui ho chiamato intelligenza ambientale, cioè fino a qua abbiamo citato sistemi che tutto sommato rispondono ai comandi diretti di un utente, quando si comincia ad inserire il termine intelligenza, si pensa che il sistema sia in grado in qualche modo di reagire con un certo grado di autonomia, che tendenzialmente non è mai molto elevato per evitare di fare dei danni, poiché si va a interfacciare con dei sistemi fisici, ma può esserci già qualche livello di autonomia e di decisione autonoma all'interno del sistema. E poi c'è un altro tipo di applicazioni che sono quelle più invisibili, ma spesso quelle più pesanti, quelle in cui non interessa direttamente l'interfaccia utente, ma interessa l'integrazione con sistemi informativi esistenti, quindi in modo che questi dati di campo non ho semplicemente l'interfaccina sul mobile che mi permette di attuare un certo processo, ma soprattutto ciò che avviene e ciò che voglio che avvenga viene interfacciato con la gestione lato sistema informativo, lato banca dati. Ecco, questi due mondi molto diversi possono comunicare attraverso un box che qui è schematizzato con nomi infrastrutture, cioè qualche cosa che permetta al dispositivo di misura o di attuazione, poi alla fine banalizziamoli in queste due grosse categorie, permetta di essere controllato o di parlare con l'applicazione. Questa infrastruttura per me raccoglie tutta una serie di variabili, queste non sono funzionalità come erano invece elencate nelle esercizioni precedenti, queste sono variabili. Voi prendete una qualunque combinazione di queste cose qua, trovate un caso diverso, sensori con tecnologie diverse, che comunicano con protocolli diversi, la scala potrebbe essere un sistema di automazione all'inizio di una stanza, un edificio, una città, oggi si parla tanto di Smart Cities, la parola che va pronunciata almeno dieci volte al giorno, io oggi l'ho già fatto due, quanti dispositivi sono coinvolti, quindi la scala in termini di dimensione, ma in termini di numerosità, la frequenza a cui si lavora, si interessa il dato al secondo, il dato al minuto, il dato all'ora, cambia radicalmente il sistema informativo, l'infrastruttura informativa che viene costruita sotto. Sono sul pubblico, sono sull'open data, oppure sono sul sistema sicuro. Che dati tratto? Che cosa sono? Sono flussi video, sono misure di temperatura, sono contatori di un processo che sta avvenendo, la comunicazione unidirezionale, quindi sto semplicemente osservando, pensiamo a tutte le reti di monitoraggio territoriale, oppure sto anche comandando, quindi ho bisogno di una comunicazione bidirezionale, e così via. Probabilmente per ogni combinazione di queste variabili esistono delle applicazioni reali su cui qualcuno sta lavorando. E questo spariglia un po' le carte, nel senso che la semplicità del modello di prima, c'è il dispositivo, c'è l'applicazione, deve fare i conti con tutto questo livello in mezzo. E infatti quella che sembrava una forza, che ho provato a vendere prima come una forza, dicendo ma i dispositivi ci sono, ci sono ma sono fatti ognuno a modo suo. Nel senso che esistono tanti standard standard di comunicazione e tante tipologie di dispositivi che aderiscono a ciascuno a un insieme diverso. Standard che sono nati per motivi diversi, io qui ho provato a elencarne alcuni, quindi non tutti, e raggrupparli per macro aree in funzione della loro storia, da dove sono stati creati, per quali motivi, per quale settore industriale di fatto sono stati creati, dopodiché oggi vengono a incrociarsi, a convivere tutti, tendono a convivere in quello che chiamiamo lo smart building, l'ecosistema dello smart building, per cui a seconda anche della vostra storia, della storia dei sistemisti installatori con cui collaborate, diciamo, penderanno più da un lato oppure dall'altro. E questi sistemi, questi protocolli, questi standard tendono a essere anche molto diversi tra di loro. Ma ogni tanto si sveglia qualcuno e dice, c'è bisogno di uno standard nuovo. L'ha fatto la Google sei mesi fa, l'ha fatto la Sony tre mesi fa, però abbiamo ancora standard sul campo che risalgono da trent'anni fa, ma continuiamo a creare nessuni, a crearne alcuni. Quindi, qui sono solo tre note, la prima, che questo è solo un piccolo assaggio, perché poi se uno va sul campo trova di tutto, il di tutto, nota 2, comprende anche, e molto volentieri, soluzioni più o meno custom. È così. sarebbe bello che potessimo pigiare il trascino di reset e costruire da zero con lo standard che ci piace, ma non è in questo universo, questo caso. Per cui, è vero che abbiamo tanti standard, ma abbiamo anche tante cose fuori standard, lo standard un po', lo standard a livello di trasporto dati, ma non a livello di codifica applicativa, abbiamo di tutto. Voi aprite un armadio, un cavedio, un, un, diciamo così, un locale impiantistico, andate a guardare che cosa c'è, diciamo così c'è di tutto. La nota 3 non è pronunciabile, ne sarebbe educato, però è il commento che viene dal cuore. Come se non bastasse, non solo c'è varietà, per cui a seconda di dove vai, paese che vai, protocolli che trovi, ma tendenzialmente ne trovi sempre più di uno. Ma è normale, perché in un qualunque sistema gli impianti si affiancano e si stratificano. si affiancano perché, per quella favolosa tecnica del subappalto, della segmentazione degli appalti, per cui anche in un edificio nuovo comunque ci sono 4-5 sistemi indipendenti che sono stati progettati indipendentemente e installati da aziende diverse e ciascuno di quali dotato di un sistema di controllo e che lavora su protocolli diversi, condividono gli spazi fisici delle canaline e la presa del 2-20 o del 3-80, del trifase, per essere alimentati, ma poi per il resto vivono nel nostro spazio ma non si pensano, non si parlano, non si conoscono, o anche solo per motivi di tempo, appunto di evoluzione temporale. Pensate alla durata di un edificio, anche solo pensiamo, mi raccontano chi parla di indizia, che ragiona su una durata minima di 30 anni per l'edificio. Rispetto alla tecnologia, 30 anni significa almeno 6 generazioni di tecnologie diverse, per cui è inevitabile che cose installate in tempi diversi naturalmente faranno uso di tecnologie diverse e non possiamo combattere questa cosa, se no saremmo ancora alla linea RS-232 per essere compatibili con quello che c'era 30 anni fa. Ovviamente poi anche le esigenze cambiano, aumentano, da un parte perché la tecnologia le permette e dall'altra perché se vogliamo la società o le esigenze di mercato lo richiedono. Quindi abbiamo, io non mi tolgo dalla testa che queste cose dobbiamo non farci le piacere necessariamente, ma sapere e imparare a conviverci. Un sistema smart per me è necessariamente un sistema in cui convivono diversi impianti distinti, indipendenti e diciamo incompatibili. Tutti i sistemi che non sono mai stati pensati per interoperare o perché non è mai stato tra i requisiti di progetto o perché tra i requisiti di progetto c'era apposta il non voler interoperare. Poi immagino che esempi pratici ne abbiamo tutti. Quindi questo è un livello di complessità in più, qualcosa che ci complica la vita. e la stessa cosa anche se meno grave, più naturale, più scontata forse, è che le applicazioni tendono a crescere. Io costruisco un sistema per controllare una certa cosa, poi l'appetito viene mangiando, sullo stesso sistema, sullo stesso edificio, magari aggiungo sensoristica, aggiungo dispositivi, ma sicuramente aggiungo funzionalità. Funzionalità nuove che verranno utilizzate con tecnologie diverse, con interfacce nuove, cioè il tablet tre anni fa non esisteva. Adesso se non dai interfaccia con tablet a qualche cosa, ti guardano come fossi un dinosauro. E quindi, vabbè, non è fantascienza, è ingegneria, per carità. Però si aggiungono cose. Allora cosa succede? Succede che ci sono diverse applicazioni che condividono lo stesso sistema fisico. Allora non è più vero che l'applicazione controlla i dispositivi, perché quello stesso dispositivo viene controllato o viene osservato da 4, 5, 8 applicazioni diverse, ciascuna con le proprie modalità, con le proprie frequenze di lavoro, con i propri scopi. E poverino, il sensore non lo sa. Le applicazioni sono state progettate pensando in modo verticale spesso, di essere proprietarie, fatelo dire, tra virgolette, del campo o di ciò che troviamo sul campo. Così non è. Allora abbiamo questi due livelli di moltiplicazione, moltiplicazione nel basso, moltiplicazione nell'alto. D'altro campo, cosa osserviamo? Osserviamo delle architetture che spesso troviamo, o troviamo proposte spesso, che secondo me sono due esempi di errori che si possono compiere. Io ho provato qua, molto semplificate, a riassumere questa figura. la prima è quella che ho chiamato applicazione all you can need. Cioè io parto dal punto di vista applicativo e poi ho bisogno di supportare quel sensore, va bene, aggiungo un pezzo dentro l'applicazione per supportare quella tecnologia. Poi devo supportare quell'altra che lo aggiungo e la mia applicazione cresce, cresce per stratificazioni, incrostature successive, cresce per accrocchi, che penso sia il termine tecnico più appropriato, aggiungendo via via interfacce, pezze, ma sì, questo l'ho tratto come se fosse quell'altro, poi l'ho adatto, insomma, rispetto a un campo che diventa sempre più complesso o rispetto alle esigenze che diventano sempre più articolate. Hai un monolita che a certo punto ti esplode in mano, la cui trasferibilità, questo mi va bene, ma la cui trasferibilità di questo monolita in un contesto anche solo leggermente diverso è nulla, è zero. È talmente cresciuto sulla base della storia di ciò che avevi in quel caso di studio che va bene, puoi sempre ripartire da zero o riprendere i pezzi ma rischia di re-ingenializzare e rimettere tutto insieme. Per cui, questa applicazione che cerca di mangiarsi tutto è un pericolo. Oltre al fatto che non permette se voi avessimo una seconda applicazione che deve lavorare sullo stesso campo riparte da zero. L'altro caso è anche un altro caso e questo invece secondo me si sta sviluppando un pochino più di recente dove ho messo l'infrastruttura dentro il campo. I fornitori di tecnologie cominciano a vendervi dei gateway sempre più sofisticati che sono in grado di parlare 18 lingue, c'hanno web service, c'hanno internet, c'hanno web service integrato, c'hanno tutto quello che volete, per cui viene la tentazione di dire ma che bello il mio campo è gestito da un componente che è già molto intelligente, per cui la mia applicazione si limita a fare ciò che deve fare e tutti i problemi di infrastruttura vengono gestiti da quel dispositivo lì. E quindi io costruisco l'applicazione sulla base delle specifiche non di un protocollo di campo o di una tecnologia ma di un modello specifico di un determinato gateway o di un determinato controller. Mi sto legando a quel dispositivo specifico ma perché è bello? Perché è comodo? Queste due sono due soluzioni che sul breve respiro sono efficaci, efficienti, non perdo troppo tempo o qualcosa che fa già buona parte del lavoro ci costruiscono un'applicazione sopra però cablandola molto sull'esigenza di questo. Se dovessi nel momento in cui il campo crescerà questa applicazione è troppo legata a quel dispositivo o è troppo stupida ha troppo poche funzionalità perché non sta gestendo nulla a livello infrastrutturale per cui non riuscirà quella stessa applicazione a gestire cose diverse e allora ne avremo un altro fianco uguale un altro fianco ancora uguale che non si parleranno. Questi sono due io li ho chiamati errori errori in una prospettiva di lungo termine chiaramente e allora cosa propongo? Propongo di ragionare non in termini verticali ma in termini orizzontali è una banalità lo so però cerchiamo di dargli un po' di concretezza quindi partiamo dal punto di vista che abbiamo il campo differenziato e le applicazioni differenziate partiamo subito dalla figura che è un pochino più aderente alla realtà e dobbiamo farli parlare farli convivere allora bisognerà portare la convivenza l'interazione a livello applicativo non ci piace sarebbe l'all you can eat di prima portarlo a livello del campo neppure mi piace perché significa vendere l'anima a neanche un produttore a un modello di un produttore e allora proviamo a trovarci nel mezzo proviamo a definire quella in modo orizzontale un taglio che disaccoppi il più possibile il modo di ragionare delle applicazioni dal modo di funzionare del campo dei campi questa è l'ho chiamata la presentazione neutrale poi cerco di raccontarvi uno dei modi per poterla ottenere una barriera al di sotto della quale ho la tecnologia e al di sopra della quale ho la funzionalità di alto livello da sopra non riesco a vedere nulla di dipendente dalla tecnologia qui sotto può essere c'è un relè qui ce ne può essere un altro qui ce ne può essere un altro ancora prendendo il caso semplice di un relè questi tre oggetti sono completamente diversi dal punto di vista elettronico dal punto di vista informatico per potervi attuare io da qua sopra vorrei solamente vedere c'è un relè poi ci penserà qualcuno qua sotto a diciamo così neutrale per me intendeva significa neutrale rispetto alla tecnologia da sopra vedo funzionalità le funzionalità che il campo mi offre indipendentemente dai bit che servono per implementarli qualcuno ovviamente qui sotto ci ho lasciato lo spazio bianco perché qualcuno dovrà poi farlo questo mapping ma vorrei il più possibile che non fosse visibile l'applicazione ma è neutrale anche dal sotto nel senso che io non voglio che il campo in qualche modo sappia il perché arriva un certo comando perché deve mandare un certo dato a chi deve mandarlo non gli interessa fai il tuo lavoro poi ci penseranno qui da sotto ho dei comandi delle funzionalità che sono neutrali rispetto all'applicazione che voglio fare un doppio cieco ok dopo che abbiamo cavato entrambi gli occhi vediamo di ricostruirli vuol dire che servirà un livello basso che in qualche modo mi riempia il gap tra una rappresentazione neutrale ossia agnostica rispetto alla tecnologia e la tecnologia vera e propria ma questo è poi la funzione di quello che informaticamente chiamiamo un driver cioè quando installo una stampante nuova sto facendo questo a livello di sistema operativo un comando print un comando dimmi se c'è la carta un sensore che mi dice se c'è la carta se non c'è se è collegata dopodiché l'azione concreta dello stampare è molto variabile in funzione del tipo di stampante ma a livelli alti non lo sanno ci sarà qualcuno che converte in funzione di qui non stiamo stampando stiamo parlando con dispositivi sul campo ma il concetto potrebbe essere lo stesso quindi questa rappresentazione neutrale viene mappata sulla tecnologia specifica attraverso dei driver che conoscono i protocolli conoscono i dettagli dei dispositivi sopra è più complesso perché il passo che devo fare è più lungo devo fornire alle applicazioni delle funzionalità diciamo così delle API pure delle chiamate di programmazione sulla base delle quali le applicazioni possono costruire le proprie le proprie logiche di funzionamento essenzialmente e quindi serve una serie di blocchi che adesso andiamo a disaggregare essenzialmente che permettono di lavorare su questa rappresentazione neutrale aggiungere via via diciamo così livelli operativi qui si parla della presentazione cioè dico che cosa c'è da qui in poi dico che cosa fa non solamente che cosa c'è o che cosa può fare tra un attimo entro un pochino più nel dettaglio allora con uno schema di questo genere quello che prima era un blocco che chiamavano infrastruttura e che veniva negato o nel basso o nell'altro o nell'alto qui sto cercando di farlo vivere di vita propria è un livello anzi un panino di livelli a sé stante ha un suo ruolo è quello di tenere insieme i pezzi di integrazione allora a questo punto noi possiamo avere dei dispositivi che trasmettono dei dati ma li trasmettono a livello intermedio il quale poi penserà di instradarli verso l'applicazione o le applicazioni che ne hanno bisogno non ha più bisogno il dispositivo di essere comandato o interrogato direttamente dall'applicazione non la vede neppure l'applicazione può anche morire ma il livello intermedio di controllo rimane vivo qui c'è una freccia un po' strana che passa attraverso un'applicazione esterna che lo rielabora e lo rimette nel sistema ma questi sono tutti percorsi possibili nel momento in cui abbiamo un livello intermedio che ha come scopo principale quello di gestire la comunicazione tra i due livelli basso e alto qui abbiamo tutta la versatilità che ci serve domani salta fuori un nuovo protocollo aggiungiamo un pezzo qua a livello dei driver e tutte le applicazioni continueranno a funzionare domani salta fuori una nuova applicazione beh purché usi le API giuste a livello basso nessuno se ne accorge che gli stessi dati adesso vengono usati anche in un'applicazione diversa che prima non c'era o da un'applicazione che si mette a cominciare a comandare comandare questa freccia rossa quindi va in giù l'applicazione decide di modificare qualcosa da dare i comandi verso il campo e questa freccia io l'ho disegnata in modo che a un certo punto si dividesse perché l'applicazione comanda i dispositivi senza curarsi della natura tecnica specifica di questi dispositivi comanda perché ha bisogno di accendere quello di spegnere quell'altro che poi questi siano collegati a due impianti diversi e quindi qui a livello di driver saranno pilotati in modo totalmente diverso all'applicazione non interessa qui esce un comando solo e poi internamente in qualche modo dovrà essere lavorato questo è un po' il modo di lavorare a cui vorremmo arrivare estendibile disaccoppiato orizzontale allora vorrei entrare un attimo nel dettaglio di quello che possono essere questi perché fare figurine è sempre bello facile è il problema quando poi si cerca di metterle in pratica che ci si accorge se davvero funziona allora qui adesso provo a raccontarvi sulla base di questo modello a panino quali sono state le scelte e le esperienze che abbiamo fatto noi negli ultimi anni su questo tema e quindi vi do degli esempi concreti di ciò che abbiamo fatto quindi non vi dico che è l'unico modo ma è un modo in cui abbiamo ci siamo convinti che questa architettura a livelli concettuali può essere realizzata e può avere dei vantaggi dicevo la rappresentazione neutrale abbiamo già visto che deve essere astratta rispetto a tecnologia rispetto alle applicazioni il più possibile espandibile perché io non potrò mai pensare oggi di mettermi a tavolino e decidere quale deve essere una rappresentazione le caratteristiche di un dispositivo senza pensare che tra due mesi escono dispositivi nuovi a cui non avevo pensato o escono esigenze nuove a cui non avevo pensato quindi devo partire con una rappresentazione che sia per sua natura espandibile e possibilmente standard in modo da non che usi linguaggi standard noi in particolare abbiamo usato i linguaggi che sono stati proposti dal V3C nell'iniziativa del Semantic Web in particolare i linguaggi di ontologia in questo caso abbiamo prodotto un'ontologia che si chiama Dogont che compie quasi 5 anni che è in grado di rappresentare le caratteristiche dei dispositivi ma è comunque sempre facilmente estendibile tanto per darvi un'idea questo è un frammento un estratto di una rappresentazione di quello che potrebbe essere un dispositivo lampada ossia un relay che è in grado di comandare una lampada dicendo che questo è un oggetto quindi se non parliamo di rappresentazioni astratte immaginiamoci un modello a classi un modello oggetti un oggetto che fa parte di una certa tassonomia di oggetti fa parte di un oggetto che fa parte dell'impianto elettrico che è uno degli impianti della casa che è qualche cosa di controllabile ma io vorrei che l'applicazione non sapesse mai che cosa vuol dire la parola lampada io nel momento in cui un'applicazione che va a fare un confronto questo dispositivo è una lamp io ho già perso perché ho già limitato la possibilità di espansione di quell'applicazione ha solamente i dispositivi che sono stati pensati nel momento in cui l'applicazione è stata creata allora però come faccio a comandare una lampada se non so che cos'è la lampada beh dichiaro esplicitamente nel mio modello dati nella mia ontologia dichiaro quali sono le funzionalità che può avere quel dispositivo dichiaro quali sono gli stati in cui può essere quel dispositivo qui non ci stavano dichiaro i comandi che posso mandare a quel dispositivo e quindi l'applicazione può interrogare dicendo quello è un dispositivo XYZ cosa sa fare in quale stato si può trovare in quale stato si trova adesso quali comandi accetta in questo senso neutrale dichiaro cosa fa un device non sulla base del suo numero di serie ma sulla base delle funzionalità che esso offre questo è rappresentato in un'ontologia in un diciamo così in una rappresentazione standard aperta che viene interrogata sia dal basso che dall'alto è quello il livello di saccopiamento a questo punto dicevo dal basso e dall'alto dal basso significa essenzialmente avere una serie una piattaforma aperta e modulare in cui poter caricare scaricare e sviluppare vari tipi di driver che di fatto hanno un lavoro abbastanza ben definito prendere dei comandi che corrispondono alle funzionalità dichiarate nell'ontologia e trasformarli in pacchetti dati da inviare e ricevere verso gli impianti di campo senza sapere nulla di ciò che succede a livello applicativo è un traduttore di protocollo tutto sommato e quindi deve essere qualche cosa un livello che abbia dei tempi di sviluppo accettabili se conosco la tecnologia di campo devo implementare un certo numero di API di funzionalità per poi poter mandare sul campo i comandi supportati da quei dispositivi finito lì non deve essere uno sviluppo di anni per supportare nuovi protocolli quello che invece nel caso dell'all you can need è sempre un dolore abbastanza profondo e poi si è indipendente dall'applicazione lo sviluppo oggi e funziona anche su altre applicazioni che oggi non esistono ancora e nel livello alto ci sono queste deve esserci un'interfaccia attraverso cui le applicazioni possono interagire un API che però si basi su una certa serie di funzionalità che qui ho cercato di riassumere conosce innanzitutto qua devo conoscere come è configurato il sistema quali sono i dispositivi che sono presenti sul campo devo poter inviare comandi poter interrogare gli stati o i dati dei sensori l'ABC le primitive di cui ho bisogno semplicemente queste primitive le esprimo di nuovo in senso astratto senza dire quel comando di quel sensore ma il comando astratto dammi la temperatura legato a un dispositivo che abbia tra le proprie funzionalità la funzionalità di misura della temperatura poi è un sensore è un pezzo di un sensore di un multimetro è una combinazione di tre sensori diversi non lo so non mi interessa a livello applicativo mi interessa un metodo che io chiamo e mi restituisce un valore e in più c'è un salto di paradigma abbastanza forte su cui abbiamo lavorato che è quello le applicazioni al giorno d'oggi sono tutte sviluppate con linguaggi oggetti linguaggi grafici interfacce asincrone ad eventi come modello di programmazione e sotto si lavora o in modo temporizzato o per molti protocolli in modalità polling quando abbiamo protocolli wireless dobbiamo fare i conti con i tempi di slip dei dispositivi quindi è tutt'altro che è un modello di eventi allora una delle funzionalità di base che ci sono qua sotto che devono esserci a questo livello è fornire una visione non solamente funzionale ma anche di modello di programmazione che sia più adeguata allo sviluppo di applicazioni l'applicazione non deve sapere se quel dato è pronto subito se devi aspettarlo se devi richiederlo se te lo manda lui in modo asincrono l'applicazione chiede il dato all'interfaccia e l'interfaccia o lo chiede al campo oppure prende l'ultimo dato possibile oppure spiega inserlo di gestire un ciclo di polling in modo indipendente trasparente rispetto all'applicazione perché altrimenti si arriva da capo da qui in su non deve filtrare nulla rispetto alle variabilità che riscoltiamo sul campo per cui queste funzionalità tra l'altro però neutre non banali sono complesse ma sono neutre non dipendono né da cosa vuole fare l'applicazione né da cosa vuole fare da cosa può fare il campo per cui sono riutilizzabili su diciamo a larga scala su abbastanza su campi ampi di applicazione diciamo e di nuovo sempre queste interfacce io continuo a insistere che devono essere basate su linguaggi standard perché perché sopravvivano sopravvivano all'applicazione al progetto al lavoro che devo fare oggi possono sopravvivere anche all'applicazione future e a integrazioni future e questa questa predica noi in realtà non ve la faccio in astratto ma è il risultato di quello che è stato il nostro lavoro su un gateway che abbiamo chiamato DOG che è un prodotto il prodotto è una parola grossa è un oggetto open source che implementa questa visione che al proprio interno usa l'autologia DOGONT per rappresentare l'ambiente e le funzionalità dei dispositivi e in grado di fornire quelle funzionalità di cui vi ho raccontato prima quindi questo solo per sottolineare che questa visione è fattibile non è solo se vogliamo un disegno su carta che è tanto bello da raccontare e quindi la visione è di avere dei dispositivi embedded da qualche parte che svolgano questa funzionalità dopodiché l'art può essere condiviso con altre cose per carità perché qui stiamo parlando di funzionalità a livello software però a questo punto oggetti che svolgono questa funzione in molti sistemi ci sono livelli di questo genere il passo in più che vorrei provare a fare è che questo livello intermedio sia generico in modo da poter essere riusato in applicazioni anche molto diverse esistono altri due appendici a questa figura di questa oggi non ne voglio parlare non che non ne voglia parlare ma uno perché il lavoro su cui siamo più indietro e due perché con i vincoli di tempo bisogna fare le scelte e quindi dico due parole adesso questi sistemi tendono a elaborare produrre generare grandi quantità di dati questi dati noi spesso li pensiamo a livello del building o del sistema che stiamo costruendo ma molti di questi dati hanno anche una rilevanza più ampia adesso sapete avete sicuramente sentito parlare di tutti i movimenti di open data adesso che poi i dati siano open o no è abbastanza irrilevante dal punto di vista della proprietà o della possibilità di essere distribuiti però il ragionamento che voglio fare qui è possiamo pensare che un sottoinsieme dei dati su cui lavoro i nostri sistemi possono essere scambiati diciamo anche sul mercato con altri sistemi che hanno bisogno di interrogarli i dati che provengono dalla centralina meteo che ho messo sul mio edificio è quelli che sono dati meteo qualcun altro potrebbe avere interesse a utilizzarli per scopi di business completamente alieni a quelli per cui io ho costruito un sistema di misura allora come possiamo pensare di costruire dei sistemi di comunicazione e trasferimento di informazioni aperti aperti non vuol dire gratis necessariamente però facili da integrare e qui stiamo cominciando a lavorare su un concetto di linked data quindi dati collegati variabili perché quello è il problema dei nostri sensori che tra 10 secondi dà un valore diverso e linked data non è stato pensato per questo ma per informazioni più di tipo di natura enciclopedica ma su questo come vi dicevo non abbiamo ancora troppi risultati concreti quindi non perdo altro tempo mentre invece il livello che approfondisco un pochino di più è questo finora abbiamo parlato dell'istante di tempo corrente cioè tutto questo panino di cui vi ho parlato finora parlava del dato che proviene dal sensore e viene passato all'applicazione o da più sensori a più applicazioni ma questo l'abbiamo capito oppure del comando che viene eseguito in questo istante però questi dati questi istanti questi valori questi comandi non sono indipendenti l'uno dall'altro vanno parte di sequenze temporali serie temporali allora tante volte queste serie temporali vengono prese e messe da qualche parte di cui al giorno d'oggi cominciano a a far scricchiolare anche le soluzioni di basi di dati più sofisticate o più diciamo così carrozzate perché effettivamente se parliamo di tante misure per tanti sensori fa tanti gigabyte o terabyte va bene a parte che i suoi dischi costano di più ma il problema non è solo memorizzarli il problema è interrogarli se voglio avere un allarme dicevamo prima io devo avere delle query e ne faccio magari 100 al secondo su dati che magari sono anche numerosi aggregati allora in questo c'è uno spazio secondo noi di lavoro sul dato fresco il dato lo posso storicizzare poi ci faccio ciò che voglio per carità ma i dati più recenti il quarto d'ora la mezz'ora la giornata dipende dall'applicazione ovviamente i dati più recenti devono essere suscettibili di elaborazioni più importanti più complesse che noi i dati storici tipicamente anche perché poi ti serve un risultato fresco allora va bene mi faccio un'applicazione che vada ad ascoltare questi 12 sensori si fa la media e si fa le variazioni rispetto alla media della scorsa ora tutto è possibile allora quello che abbiamo cercato di fare noi è quello di dire ma l'applicazione di questo genere che osservano flussi di dati e fanno elaborazioni che tutto sommato non sono neanche troppo complesse ma devono essere devono lavorare su molti dati e devono essere agganciabili a molti flussi di dati diversi può essere un blocco funzionale se stante e oggi esistono già delle tecniche di cosiddetto stream processing che è una nuova tecnologia diciamo così emergente nel campo dei database che sono pensati per eseguire query su flussi di dati continui query fisse su dati che cambiano a differenza di un database normale che è fatto per eseguire query variabili su dati fissi questo c'è questo che ho citato qua è un prodotto parzialmente open source che fa questo lavoro ad esempio e lo fa in modo molto efficiente dal punto di vista delle prestazioni il problema come sempre è programmarli in questi sistemi programmarli in un modo friendly sufficientemente friendly per lo sviluppatore perché qui sotto siamo ancora su tecnologia abbastanza acerba quindi va un pochino gestita e soprattutto che si è integrato in un ecosistema di applicazione di API che faccia parte del panino di cui dicevamo prima e quindi questa è stata la nostra proposta è quella di avere un livello in cui hai delle cosiddette catene di elaborazione immaginatevi un po' i blocchi di matlab per intenderci un flusso di blocchi ciascuno dei quali esegue una parte di elaborazione su dei dati che arrivano anche con frequenze elevate anche con quantità elevate e genera dei flussi di uscita flussi di uscita che tipicamente sono decimati ti arriva un dato secondo butti fuori un dato al quarto d'ora ma nel frattempo li hai guardati tutti le anomalie le trovi i dati spuri li hai già filtrati tutti i lavori che a livello di dato storico costano molto e devono essere fatti offline spesso li puoi fare già direttamente sul campo e qui ci sono alcuni esempi ma non voglio analizzare in dettaglio di quello che possono fare questi blocchi questo è un esempio che dice io prendo il valore di un sensore faccio la somma dei dati che sono ricevuti nell'ultima ora e questa somma vado a vedere se è all'interno di un certo range operativo oppure no questo è un acquiri che scrivo 20 righe di xml e mi fa quel lavoro e lo fa in modo efficiente perché stiamo parlando di volendo centinaia di migliaia di eventi al secondo sull'hardware giusto chiaramente questo è un altro esempio prendo questi due sotto perché sono un pochino più complessi intanto per darvi un'idea questo è un sensore di cui prendo l'ultimo valore un valore in 10 secondi un valore in 10 secondi faccio la differenza tra un campione e quello precedente quindi vado a vedere la variazione degli ultimi 10 secondi ne faccio il valore assoluto e confronto se è maggiore o minore di una certa soglia tutte operazioni non stiamo calcolando la relatività generale stiamo filtrando decimando confrontando mediando aggregando dei dati tanti veloci e difformi perché possono arrivare da fonti diverse con unità di misura diverse arrivano da impianti diversi e a questo punto non sappiamo più qual è l'impianto non sappiamo più qual è il sensore sappiamo che ci sono dei dati e di questi dati ci saranno informazioni che possono essere dei flussi di uscita oppure tipicamente degli allarmi delle notifiche che qualcosa è andato storto oppure no quindi questo è un altro livello sempre che non vorrei vedere annegato dentro un'applicazione perché poi è facilmente riutilizzabile in campi diversi io quanto siamo? 5-10 minuti li uso magari per fare un paio di accenni a un paio di due proprio no tenere le persone prigioniere no abbiamo detto fino alle 18 quindi prendo ancora 10 minuti e poi così abbiamo 20 minuti liberi un paio di esempi di progetti che abbiamo recentemente concluso e in buona parte col supporto dei poli di innovazione quindi in questo contesto mi sembrava corretto raccontarli parto da prendo per primo questo progetto che si chiama GERP l'ho prodotto per primo perché ci sono i complici di questa attività seduti lì dietro quindi prendetevela con loro si tratta di un progetto che aveva come scopo diciamo il tema ampio del monitoraggio energetico ma declinato in termini gestionali scusatemi in precisione nel senso di studiare come l'energia potesse essere trattata come un asset aziendale e quindi contabilizzata attribuita e non semplicemente diciamo così rientrare nella scatola delle spese generali o a consuntivo e quindi questo significava avere un monitoraggio del cosa consumo quanto dove perché e collegare questa informazione a sistemi di IRP in prima battuta e poi di contabilità aziendale in seconda battuta e in questo progetto abbiamo lavorato insieme a Proxima Centauri inserendo le nostre catene di interfaccia domotica e di analisi dei dati in questo caso siamo incapsuati in un componente che si chiama Collector che si andava a integrare in un sistema informativo già esistente che è quello diciamo così facendo parte dell'offerta di Proxima Centauri e verso il basso andava a fare acquisizione dati essenzialmente rispetto a sensoristica che era presente sul campo tra virgolette sul cliente presso il cliente oppure veniva installata può essere installata diciamo così dove non fosse già presente all'inizio quindi questo è un esempio in cui si è tutto sommato fatto un salto abbastanza ampio dalle logiche di funzionamento di un gestionale rispetto alle logiche di funzionamento di impianti di automazione e questo inserendo chiaramente modellando e inserendo modellando gli impianti e inserendo gli opportuni blocchi tra cui quelli che vi ho raccontato prima con il dog e con lo stream processor di cui abbiamo parlato quindi questo è un caso applicativo in cui non so se questa mattina o ieri sera ieri sera ho catturato vi ho rubato una schermata in tempo reale di quello che è un risultato visibile poi come sempre quando ti intervalli con il sistema gestionale il grosso delle cose sono quelle non visibili no ma tanto per dare un'idea in cui ci sono degli asset energetici dei punti degli oggetti che consumano energia o e o e o dei punti di misura dell'energia quindi poi a volte sei così fortunato da misurare l'energia sul dispositivo a volte invece la misuri sul quadro e sai che copri un certo insieme di dispositivi ma non necessariamente uno solo quindi c'è anche questo livello di complessità nella rappresentazione di cui chiaramente l'ontologia deve tener conto e poi alla fine tu hai delle informazioni la cosa più semplice era un grafico ma questo è chiaramente il punto di partenza a un certo punto le informazioni sono arrivate nel sistema gestionale questo stanno arrivando in tempo reale stanno arrivando dei dati che sono sia dati grezzi che dati elaborati sulla base di catene di elaborazione come quelle che vi ho fatto vedere prima tra l'altro alcune di quelle catene sono proprio tratte da questo progetto o da un altro gemello ecco un altro spunto questo sempre relativo a un progetto che del polo ICT questa volta che è iniziato qualche mese fa c'erano un paio di persone iscritte forse non sono venute il progetto si chiama Smilo e in questo caso coordinato da Achela e l'idea di questo a parte la complessità di questa figura l'idea è quella di gestire il caso in cui si abbia la compresenza di produttori piccole produzioni di energia e diciamo così consumatori impianti energivori quindi un'azienda una factory che svolge dei processi industriali e nello stesso tempo installa presso di sé o presso qualcuno di vicino diciamo dei sistemi di produzione in questo progetto in particolare la produzione avverrà una mini pala eolica e fin qui di sistemi di questo genere di nuovo ne abbiamo sul mercato tanti problema risolto dicevamo non mezz'ora fa ma se non risolviamo il problema nel caso specifico e proviamo a pensarlo in generale significa che abbiamo un sistema di raccolta dati sul lato consumo l'azienda ha dei processi produttivi deve andare a monitorare cosa sta facendo e quanto sta consumando non mi interessa sapere che in questo momento sono 2 megawatt cosa c'è di acceso e perché qui c'è tutta un'integrazione sulla misura e sui processi che hanno causato quella misura e lato produzione analogamente devo sapere quanto sto producendo in realtà dovrei anche sapere quanto sto per produrre avere un minimo di predizione per cui in questo progetto tra l'altro c'è una parte di nuovo un altro modulo questa volta non è roba nostra quindi però ne parlo lo stesso in cui sulla base dei flussi di dati in particolare di produzione e informazioni meteo che possono arrivare dall'esterno fate un po' di predizione sulla capacità produttiva a breve termine e questo può servire chiaramente al gestore dell'impianto per ottimizzare il consumo di energia per ottimizzare la schedulazione dell'attività per mappare meglio il consumo di energia rispetto a quello che è la produzione di energia gratuita a costo zero perché di fatto il conto di energia tutti dicono che sparisce quindi questa energia te la devi consumare da solo e quindi devi riuscire a trovare a farlo nel momento migliore quindi questo è un altro caso in cui in particolare non solo siamo parlando di due sistemi di misura e gestione separati perché il sito di produzione e il sito di consumo sono separati ma pur essendo separati si devono scambiare informazioni e questo è il caso in cui il contesto in cui stiamo lavorando per quel discorso di scambio di dati su internet non è più un problema di far arrivare il comando i due sistemi di controllo l'EI sono sperabilmente fatti in modo aperto e non in modo verticale ma poi il problema è farli parlare al di fuori della logica di una singola applicazione ma costruendo applicazioni di più alto livello che consumino i dati da sistemi diversi poi in realtà faccio solo due rapidi accenni a due altri progettini uno in fase di conclusione l'altro in fase di avvio quello in fase di conclusione questo progetto che si chiama Speak to Home tanto per citare qualcosa di un po' diverso per uscire un po' dal campo lavora sull'interfaccia utente quindi in questo caso stiamo lavorando con c'è un finanziamento che è della fondazione Lagrange in questo caso tanto per dare la paternità dove deve essere data in cui l'obiettivo è quello di comprendere comandi costruire un ambiente che comprenda comandi espressi in linguaggio naturale parlato o scritto scritto chiaramente è più facile parlato c'è di mezzo riconoscimento vocale che funziona abbastanza dipende dai casi ovviamente e quindi il problema lì è che si lavora tutto a livello applicativo in cui le applicazioni linguistiche sono aziende che si occupano di questo prendono il testo e lo trasformano in comandi da mandare al sistema e qui al di là dello stupore e dell'ammirazione che ho sempre ogni volta che vedo queste piattaforme linguistiche fare il loro lavoro è interessante notare come le informazioni che provenivano dalla nostra antologia Dogont che serviva per modellare i dispositivi sono diventate in questo caso informazioni chiave per poter poi comprendere il significato delle frasi dette c'è un concetto di accendi spegni quali sono i dispositivi che possono essere accesi o spenti ecco per l'interfaccia linguistica è fondamentale saperlo ma anche per il controllo dei sistemi quindi il fatto di avere rappresentato l'informazione fatto lo sforzo in più di dire modelliamo in modo neutro e poi le applicazioni vanno a interrogare questa modellazione è vero che è un livello in più una complessità in più ma ha permesso non l'avevo mai pensato quando abbiamo pensato Dogont nel 87 eh sì 97 che ci sarebbe potuto essere un'applicazione che andava a pescare quella antologia e la usava per disambiguare frasi espresse in linguaggio naturale ma il fatto di avere tirato fuori le informazioni e non aver nascosto le informazioni che hai dentro le linee di codice cosa che succede troppo spesso ti permette di ragionare e di avere dei benefici anche a lungo termine almeno questo speriamo eh l'ultimo caso è invece come i bambini crescono cominciano a diventare un po' maturi e cominciano a farsi del male nel senso che cominciano a frequentare le cattive compagnie e dire adesso sono già grande basta fare giochini con cui lavoro con dieci sensori cominciamo a affrontare problemi più ampi e in questo caso una delle attività che stiamo portando avanti è quella di di lavorare sul sistema del Politecnico semplicemente perché ce l'abbiamo in casa ma anche perché gli impianti energetici qui stiamo parlando di energia gli impianti energetici del Politecnico sono già stati in molti casi costruiti sfruttando la loro esistenza per fare ricerca quindi molte volte sono degli impianti che sono già strumentati hanno già sensori hanno già sistemi di gestione diciamo così più ampi rispetto a quanto sarebbe estremamente necessario perché negli anni gli altri ricercatori degli altri campi del Politecnico ci hanno lavorato e questo è un esempio il Politecnico abbiamo fatto i 150 anni poco fa è vero che 150 anni fa non c'erano ancora gli impianti che ci sono adesso ma alcuni risalgono a due decenni fa come minimo se non tre e quindi la sfida lì effettivamente è un esempio concreto ogni volta che apri una porta è sorpresa di scoprire cosa ci sarà dietro che cosa avranno collegato se mai hanno previsto che ci arrivasse la corrente elettrica vicino a un tubo dell'acqua o cose simili quindi stiamo cominciando a giocare con questo sistema lì c'è una in seduto lì c'è una delle persone che ha sbagliato a credere in noi e vi racconteremo poi più avanti dimmi certo no ci sono già i sistemi attuali e qui stiamo cercando di integrarli e ampliarli però sì diciamo che quella è una parte che poi viene un punto di traduzione da radio 3 sì sì no era un docente che è il cazzo si si ma l'energia manager esiste il professor Castoro in quel caso e c'è un cosiddetto living lab interno al Politecnico in cui vengono raccolti tutti i dati vengono raccolti fino ad oggi con le modalità di cui discutevamo all'inizio n impianti distinti ciascuno con un sistema di raccolta diversa e con una serie di acrobazie più o meno complesse vanno a finire in un database o in pochi database quello che stiamo cercando di fare è ragionare se su un sistema su un sistema complesso di questo genere come si possa ragionare in modo uniforme per n casi particolari indipendenti però è indivenire probabilmente di nuovo tra un anno se l'energy manager farà la stessa intervista farà vedere esattamente le stesse cose perché dal punto di vista utente finale mi vedo un bel pannello colorato con dei bei grafici ciò che sta sotto invece sarà stato ripensato ok io qui chiuderei come vi dicevo ho detto 10 minuti non ho usato i 14 ma per approssimazione va bene lascio solo i nomi delle persone che hanno fatto veramente il lavoro io faccio solamente questa parte qui e lascio lo spazio il tempo a domande e commenti che sono sicuramente benvenuti grazie a tutti grazie a tutti